ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco axeramis compressa rivestita dompe farmaceutici spa ultimo aggiornamento 6 novembre 2021 cos'è axeramis compressa rivestita confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere axeramis compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci estericose axeramis compressa rivestita axeramis compressa rivestita è un farmaco a base del principio attivo cetirizina di cloribrato appartenente alla categoria degli antiallergici antistaminici e nello specifico derivati piperazinici è commercializzato in italia dall'azienda dompe farmaceutici spa axeramis compressa rivestita può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni axeramis 10 mg 20 compresse rivestite informazioni commerciali sulla prescrizione titolare dompe farmaceutici spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo cetirizina di cloridrato gruppo terapeutico antiallergici antistaminici forma farmaceutica compressa rivestita indicazioni adulti e pazienti pediatrici a partire da sei anni di età cetirizina è indicata per il trattamento dei sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale perenne cetirizina è indicata per il trattamento sintomatico dell'orticaria cronica idiopatica posologia bambini di età compresa tra 6 e 12 anni 5 mg due volte al giorno mezza compressa due volte al giorno adulti e adolescenti di età superiori ai 12 anni 10 mg una volta al giorno 1 compressa pazienti anziani sulla base dei dati disponibili nei soggetti anziani con funzionalità renale normale non risulta necessaria alcuna riduzione della dose pazienti con insufficienza renale da moderata a grave non sono disponibili dati che documentino il rapporto efficace barra sicurezza nei pazienti con insufficienza renale poiché l'acetirizina è prevalentemente escreta per via renale vedere paragrafo 52 nei casi in cui non possono essere utilizzati trattamenti alternativi gli intervalli tra le dosi devono essere personalizzati in base alla funzionalità renale fare riferimento alla seguente tabella e adattare la dose come indicato per utilizzare tale tabella posologica è necessario avere una stima della clarance della creatinina clcr del paziente espressa in ml barra min la clcr ml barra min può essere ricavata partendo dal valore della creatinina sierica mg barra dl usando la seguente formula clcr uguale 140 età anni x peso kg 72 x creatinina sierica mg barra dl x 0,85 per le donne adattamento della posologia per adulti con funzionalità renale compromessa gruppo clea arance della creatinina ml barra min dosaggio e frequenza normale e 80 10 mg una volta al giorno lieve 50 79 10 mg una volta al giorno moderata 30 49 5 mg una volta al giorno grave 10 controindicata pazienti in dialisi nei pazienti pediatrici affetti da insufficienza renale la dose dovrà essere adattata individualmente tenendo in considerazione la clarance renale l'età e il peso corporeo del paziente pazienti con insufficienza epatica i pazienti affetti solo da insufficienza epatica non necessitano di alcun adattamento della posologia pazienti con insufficienza epatica e renale si raccomanda un adattamento della posologia si veda sopra pazienti con insufficienza renale da moderata a grave modo di somministrazione le compresse devono essere assunte con un bicchiere di liquido controindicazioni per sensibilità al principio attivo ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 all'idrossizina oa qualunque derivato della peperazina pazienti con grave insufficienza renale con clea arance della creatinina inferiore a 10 ml barra min avvertenze speciali e precauzioni di impiego alle dosi terapeutiche non sono state evidenziate interazioni clinicamente significative con alcol per livelli ematici di alcol di 0,5 g barra l tuttavia si raccomanda cautela in caso di assunzione concomitante di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione per il profilo farmaco cinetico farmaco dinamico e di tollerabilità dell'acetirezina non sono previste interazioni con questo antistaminico negli studi di interazione farmaco farmaco in effetti non sono state riportate in interazioni vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere axeramis compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere axeramis compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza per citirezina sono disponibili pochissimi dati clinici su gravidanza esposte al trattamento studi sugli animali non mostrano effetti dannosi diretti o indiretti per quanto riguarda la gravidanza lo sviluppo vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari misurazioni obiettive della capacità di guidare del tempo di addormentamento e del rendimento alla catena di montaggio non hanno dimostrato alcun effetto clinicamente rilevante alla dose raccomandata di 10 mg i pazienti che intendono porsi alla guida di veicoli intraprendere attività potenzialmente pericolose ad utilizzare macchinari non devono superare la dose raccomandata e tenere conto della risposta individuale il farmaco in pazienti sensibili l'assunzione contemporanea di cetirizina con alcol o altre sostanze ad azione deprimente sulle snc può causare un'ulteriore diminuzione dello stato d'allerta e alterazione della prestazione effetti indesiderati studi clinici hanno mostrato che la cetirizina al dosaggio raccomandato ha effetti indesiderati minori a livello delle snc che includono sonnolenza affaticamento capogiri e cefalea in qualche caso è stata vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio sintomi i sintomi osservati a seguito di un sovradosaggio di cetirizina sono principalmente associati ad effetti a carico del sistema nervoso centrale o ad effetti che potrebbero suggerire un'attività anticolinergica a seguito di assunzione di una dose pari ad almeno cinque volte la dose giornaliera raccomandata sono stati segnalati i seguenti eventi avversi confusione diarrea capogiri affaticamento cefalea malessere midriasi prurito irrequietezza sedazione sonnolenza stupore tachicardia tremore e ritenzione urinaria trattamento non è noto uno specifico antidoto per cetirizina in caso di sovradosaggio si raccomanda un trattamento sintomatico di supporto a seguito di recente ingestione può essere praticata la lavanda gastrica cetirizina non viene efficacemente rimossa per dialisi proprietà farmacodinamiche gruppo farmacoterapeutico derivati piperazinici codice atc r 0 6a e 0 7 cetirizina un metabolita della idrossizina nell'uomo è un antagonista potente e selettivo livello dei receptori h1 periferici gli studi di binding recettoriale proprietà farmacocinettiche la concentrazione plasmatica allo stea di state è approssimativamente 300 ng barra ml ed è raggiunta entro 1,0 più meno 0,5 ore non è stato osservato alcun accumulo in seguito a dosi giornaliere di 10 dati preclinici di sicurezza i dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety farmacologi tossicità a dosi ripetute genotossicità potenziale cancerogeno tossicità riproduttiva elenco degli eccipienti lattosio monoidrato cellulosa microcristallina silice colloidale anidra magnesio stiarato rivestimento o padre di bianco costituito dai promellosa titanio di ossido e 171 polidestrosio e 1200 talco maltodestrina trigliceridi al catena media farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di axeramis compressa rivestita base di cetirizina di cloridrato sono cerchio compressa divisibile cerchio gocce ceteris compressa rivestita ceteris gocce cetirizina abc cetirizina accord compressa rivestita cetirizina accord gocce cetirizina alter cetirizina eurobindo cetirizina doc compressa rivestita cetirizina e g compressa rivestita cetirizina germad cetirizina ipsofarm cetirizina milagenerix compressa rivestita cetirizina pensa cetirizino sandoz cetirizino san cetirizina teva cetirizina teva italia cetirizina zentiva formistin compressa e vestita, Prizitec, Sotrizol, Stamidix, Compressa Divisibile, Stamidix, Gocce, Suspiria, Compressa e Vestita, Suspiria, Gocce, Tezzastin, Compressa e Vestita, Tezzastin, Gocce, Zyrtec, Compressa e Vestita, Compressa e Vestite, Fonte, Foglietto Illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.